160 sì e 36 no. L'aula del Senato salva, almeno dall'utilizzo delle intercettazioni, il senatore di NCD ed ex sindaco di Molfetta Antonio Azzollini, coinvolto nell'indagine della procura di Trani sulla maxifrode da 150 milioni di euro legata alla costruzione del nuovo porto di Molfetta. L'ok dell'Assemblea conferma il parere della Giunta per le autorizzazioni a procedere presieduta da Dario Stefano, che lo scorso 7 ottobre si era pronunciata a sfavore della richiesta della procura. Azzollini, che è anche presidente della Commissione Bilancio di Palazzo Madama, è ritenuto dalla pubblica accusa il promotore di un'associazione per delinquere costituita per commettere delitti contro il patrimonio, la fede pubblica e la pubblica amministrazione. Nell'ottobre 2013 ricevette un avviso di garanzia per associazione per delinquere, abuso d'ufficio, reati ambientali, truffa e falso. Secondo la procura di Trani, il comune di Molfetta guidato da Azzollini, sapeva dal 2005 che sui fondali del nuovo porto c'erano decine di migliaia di ordigni bellici inesplosi. Nonostante questo fece finta di nulla. Nel 2007 appaltò i lavori per la costruzione della diga foranea e del nuovo porto commerciale, opere finora non realizzate e forse irrealizzabili. L'area interessata dai lavori del valore di 42 milioni è stata sottoposta a sequestro il 7 ottobre 2013, così come i restanti 33 milioni di euro stanziati per la realizzazione dell'infrastruttura e ancora disponibili. Decisivi per il salvataggio di Azzollini i voti dei gruppi del PD, che già aveva votato contro l'autorizzazione in giunta, e della Lega Nord, un comportamento che ha fatto scattare la protesta dei senatori grillini. Renzi e Salvini vanno in tv a parlare di lotta alla corruzione e legalità. Tutte balle, dice Enrico Cappelletti, capogruppo 5 Stelle in Commissione Giustizia. Nei fatti in Parlamento PD e Lega vanno a braccetto per non permettere un complotto a svolgimento delle indagini alla magistratura, negando l'utilizzo di intercettazioni telefoniche su un senatore indagato per gravissimi reati.